Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale! Nel tutorial di oggi andiamo a vedere come realizzare questo granny a sei angoli o sei punte come volete chiamarlo. È un progetto molto semplice, lo possiamo fare in tantissimi colori. Questo granny è composto da soli tre giri, io ho fatto i primi due giri dello stesso colore e l'ultimo giro di un colore diverso. Voi chiaramente potete farlo tutto di un colore unico o cambiare anche colore dopo ogni giro. Io vado a realizzare una copertina per il mio cagnolino ma potete fare tantissimi altri progetti come borse, capi d'abbigliamento, tappeti e tanto altro. E adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzare questo granny. Abbiamo bisogno del nostro filato, come ho detto io farò il granny di due colori verde e rosso. Il mio filato è un 100% cotone, voi potete usare qualsiasi filato. Userò l'uncinetto del numero 4, voi adeguerete l'uncinetto al filato che andate ad usare. Poi ci serve anche la forbice e un ago da lana. E adesso non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito al lavoro. Prendiamo adesso il nostro filo e come prima cosa andiamo a fare un anello magico e poi tre catenelle. Una, due e tre. Queste tre catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta. Adesso andremo a fare una seconda maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo all'interno del cerchio, peschiamo il filo, lo portiamo di qua, abbiamo tre asole, prendiamo il filo, passiamo attraverso le prime due, restano due asole, prendiamo il filo e chiudiamo le ultime due. Così abbiamo fatto il nostro punto alto e realizzato il primo gruppo di sei gruppi che dobbiamo fare all'interno del nostro cerchio. Dopo ogni gruppo di due maglie alte andiamo a fare due catenelle di separazione e il prossimo gruppo di due maglie alte, la prima e la seconda, due catenelle di separazione, il prossimo gruppo di due maglie alte, la prima e la seconda maglie alta, le due catenelle di separazione, il prossimo gruppo delle nostre prossime due catenelle di separazione, il prossimo gruppo di 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 due catenelle di separazione, 5 e 6. Sei gruppi di due maglie alte con due catenelle di separazione tra un gruppo e l'altro gruppo. Ancora le ultime due catenelle, tiriamo il filo dell'inizio così si chiude il cerchio e poi chiudiamo questo giro. All'inizio abbiamo fatto le tre catenelle, una, due, tre, entriamo nella terza in tutte e due le asole del punto e andiamo a fare un punto bassissimo. Terminato così il nostro primo giro e come potete vedere abbiamo fatto i nostri sei angoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a iniziare il secondo giro. Dobbiamo come prima cosa spostarci nel primo angolo, in questo primo spazio formato dalle due catenelle di separazione. Saltiamo con dei punti bassissimi per cui andiamo sopra la prossima maglia alta, facciamo un punto bassissimo, entriamo nello spazio e anche qui ripetiamo un punto bassissimo. Siamo qui giunti al primo angolo e qui andiamo a fare tre catenelle che sostituiscono sempre la nostra prima maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto, nello stesso spazio rientriamo, andiamo a fare una maglia alta per un totale di due, due catenelle di separazione e poi altre due maglie alte nello stesso spazio, una e due e in questo modo lavoreremo tutti gli angoli, due maglie alte, due catenelle, due maglie alte, una catenella di separazione e saltiamo nel prossimo angolo, dove andiamo a ripetere due maglie alte, una, due, due catenelle di separazione e altre due maglie alte nello stesso spazio, catenella, nel prossimo angolo, andiamo a fare la stessa identica cosa, prima due maglie alte, due catenelle di separazione e altre due maglie alte, la catenella, adesso andiamo a ripetere questa cosa in ogni angolo disponibile e poi ci vediamo alla fine del giro. Lavorato poi nell'ultimo angolo andiamo a fare ancora la catenella, questo giro non lo chiuderemo nella terza catenella con un punto bassissimo ma allunghiamo l'asola, tagliamo il filo, lo facciamo passare e poi ci procuriamo l'ago della lana e andiamo a fare un'asola di chiusura in modo da rendere il lavoro molto più pulito. Allora qui avevamo le tre catenelle dell'inizio, le saltiamo, le ignoriamo, andiamo sopra la prima maglia alta che c'è subito dopo, entriamo in tutte e due le asole, facciamo passare ago e filo e poi entriamo nell'ultima catenella che abbiamo appena fatto ma solo nella costina dietro della catenella. Entriamo anche qui, facciamo passare ago e filo, tiriamo poi bene e come potete vedere abbiamo fatto l'asola e il lavoro è molto molto più pulito. Ci giriamo il lavoro e nascondiamo il filo. All'interno di qualche maglia possiamo fare anche un nodino per una maggiore sicurezza e poi tagliare il filo. Già che abbiamo l'ago in mano andiamo a nascondere anche il filo dell'anello, così abbiamo nascosto questi due fili, facciamo passare l'ago tutto intorno all'anello, tiriamo così si chiude tutto lo spazio al centro, fatto questo lavoro tagliamo il filo, giriamo la nostra mattonella e come potete vedere si riconoscono già benissimo i sei angoli. Adesso, come ho detto io faccio un cambio colore, vado a prendermi il filato rosso e andiamo ad agganciare il filo, il colore nuovo in uno dei sei angoli che abbiamo realizzato, non qua nello spazio della catenella ma in un angolo. Entriamo, facciamo passare il filo nuovo e come prima cosa tre catenelle, una, due e tre. Queste tre catenelle sostituiscono di nuovo la nostra prima maglia alta, essendo in un angolo, lavoriamo come abbiamo lavorato fino adesso, due maglie alte, due catenelle e nello stesso spazio, nello stesso angolo, altre due maglie alte, una e due. Adesso, come potete vedere, abbiamo qua queste due maglie alte sempre di questo angolo del giro sottostante e su ogni una di queste maglie alte faremo una maglia alta, per cui andiamo sopra la prima e andiamo a fare una maglia alta, sopra la seconda una maglia alta, qui abbiamo la catenella di separazione e facciamo una catenella. Qui adesso abbiamo il prossimo angolo che è composto da due maglie alte prima, poi c'è lo spazio dell'angolo e due maglie alte dopo. Lavoriamo una maglia alta sopra queste due maglie alte che arrivano prima dello spazio, per cui andiamo sopra la prima e facciamo una maglia alta, sopra la seconda una maglia alta. Lavoriamo adesso all'interno dove andiamo a fare sempre prima due maglie alte, le due catenelle di separazione e altre due maglie alte e poi abbiamo le ultime due maglie alte sempre di questo angolo e qui andiamo a fare sopra la prima maglia alta una maglia alta e sopra la prossima anche qui una maglia alta e così lavoreremo tutti gli angoli, sopra le prime due maglie alte, una maglia alta su ciascuna, nello spazio due maglie alte, due catenelle, due maglie alte e sopra le ultime due maglie alte anche qui una maglia alta su ogni maglia alta. Qui abbiamo la catenella di separazione e andiamo a fare anche in questo giro una catenella. Il prossimo angolo per cui prima sopra le due maglie alte che si trovano prima dello spazio andiamo a fare una sopra la prima, una sopra la seconda, poi lavoriamo nello spazio dell'angolo, prima le nostre due maglie alte, le due catenelle, le due maglie alte sempre nello stesso spazio e poi abbiamo le ultime due maglie alte di questo angolo e anche qui sopra la prima una maglia alta, sopra la seconda una maglia alta e la catenella di separazione e adesso andremo a fare questo lavoro fino al termine di questo giro. arrivati quasi al termine ci restano le ultime due maglie alte del primo angolo perché se vi ricordate abbiamo iniziato al centro dello spazio del primo angolo e dopo aver fatto la catenella andiamo a lavorare anche sopra queste due ultime maglie alte. Una maglia alta sopra la prima e una maglia alta sopra la seconda. Non chiudiamo nella terza catenella, facciamo come prima, allunghiamo l'asola, tagliamo il filo, lo sfiliamo, andiamo a procurarci l'ago da lana e fare anche qui un'asola di chiusura in modo da rendere il lavoro molto più pulito ignoriamo anche qui le tre catenelle dell'inizio andiamo sopra la prima maglia alta in tutte e due le asole facciamo passare ago e filo e poi in questo caso andiamo sopra l'ultima maglia alta che abbiamo fatto entrando solo nella costina dietro del punto facciamo passare ago e filo poi tiriamo bene e abbiamo fatto anche qui un bel lavoro adesso andiamo sul rovescio e come prima andiamo a nascondere il filo quando abbiamo nascosto tutti i fili ecco pronta qua la nostra bellissima mattonella a sei angoli possiamo farli in tantissimi colori diversi a più colori, a tinta unita spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like, abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao